Siamo qui dentro, ti credo che ho bisogno di un'osservazione dall'altra caeta Papà, se ti sposti, che c'è un'illuminaria Ma è vero? Un manichino Sono messo una paura quando l'ho vista Penso fosse un attuore Oh, lo sai che è scomodissimo salire dall'altra? Ma che ci sta? Mi sto iniziando a fare molto bene dalle ultime volte vive Quindi non possiamo andare Adesso per ora, signori, mi ho messo libero Noi vogliamo salire Sì, vuoi? Mi messo Siamo madriamo Aspetta, qua non ci siamo venuti Mi sa perché stiamo ancora lì sotto Quello non era Il matrimonio Ma dove è? Qua È tutto da sopra E là c'è il polo con l'antanas Non si vede bene ma ce l'ha È tipo il polo Questa cosa è qua Quella cosa là tipo blu Perché questa è la ruota panorapica E qua fianco c'è il polpo Capito? Ma dove cavolo è andato mio padre? È un matrimonio, è vero? È un'intervista Oddio, è un'intervista È una pubblicità di come possono fare E organizzare i matrimoni Posso entrare? Ma qua c'è la Ma vedo che c'è tipo la sposa Ma è quindi quella sposa È solo una vestita Bellissimo Ragazzi guardatemi c'è un'intervista Ora compaio in tv Scendiamo? Mamma mia che bello da qua sopra No aspetta si vede tutto sfocato Ma perché? Aspetta ma faccio da là che è più in basso Papà attento che la signora prima ha tolto tutto il pio No no non è pioggia È la signora che prima ha svuotato il barattolo di ghiaccio Forse da qua si vede un po' meglio la situazione Ma non tanto perché c'è l'albero che copre Papà c'è l'albero che copre E ciao a tutti ragazzi